Siamo davanti a Palazzo Rinaldi e si è appena concluso l'incontro con l'assessore Michelin per quanto riguarda la messa in sicurezza della strada di Canizzani. Con l'occasione abbiamo presentato all'assessore le firme che abbiamo raccolto in circa 10 giorni. Si tratta di 130 firme, abbiamo anche consegnato al protocollo copia di queste firme con le quali chiediamo un'immediata messa in sicurezza della strada di Canizzano. L'assessore ci ha detto che sono pronti gli interventi che hanno in progetto e precisamente un semaforo all'altezza della scuola San Giovanni Bosco che dovrebbe essere installato dentro due settimane e due dissuasori, uno all'inizio e alla fine della strada di Canizzano che, ha detto l'assessore, saranno installati entro l'inizio del prossimo anno scolastico. Noi abbiamo presentato anche la nostra proposta che abbiamo già reso pubblica nei giorni scorsi, ovvero una serie di dissuasori di una lunghezza piuttosto estesa, proposta che tuttavia non è stata ritenuta accoglibile da parte dell'assessore. Allo stesso tempo abbiamo anche fatto presente quello che i commercianti e i residenti della zona ci hanno segnalato, ovvero la necessità di una messa in sicurezza di alcuni punti particolarmente critici attraverso barriere o innalzamenti dei marciapiede nei punti in cui questo è a livello attualmente della sede stradale. Noi ci auguriamo che le promesse vengano rispettate, continueremo ovviamente a vigilare e staremo molto attenti a verificare che i tempi annunciati siano rispettati. Grazie a tutti.